Ti spiego la scena. Un paio di ragazze arrivano qui a New York per passare un allegro weekend e incontrano due affascinanti uomini d'affari appena tornati da una missione in Giappone. Esempio di dialogo. Hai una valigia con le rotelle. Oh, chi ha una valigia con le rotelle? E ti manca una rotella? No, caro. E non fa uomo d'affari la camicia fuori dai pantaloni. Non fa uomo d'affari? Vedati, vedrai. Sarà leggendario. Senti, non dire leggendario, ok? Tu abusi dell'aggettivo leggendario. Noi due costruiremo un igloo a Central Park. Sarà leggendario. Vestite la montagna. Eh, 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 guardami. Ormai ci siamo. O metti i bagagli sul nastro o ascolterai un mio interminabile discorso per convincerti a mettere i bagagli sul nastro. Scegli tu.